Sono un consigliere comunale tra virgolette di strada, mi piace girare la città, raccogliere le segnalazioni dei cittadini proprio per divulgarle mediaticamente e poi per andare a risolvere nelle sedi comunali competenti le problematiche che sono state poste alla mia attenzione. Ho reso anche pubblico il mio numero 339-244-240, cui inviare segnalazioni, proposte, denunce, immagini, video, foto, quello che volete. Oggi raccolgo una segnalazione che mi è stata fatta da alcuni genitori della scuola Martellotta a Taranto II. Guardate lo stato in cui si trovano i marciapiedi, qualcosa davvero di pericolosissimo, oltre che indecoroso. Si rischia davvero di cadere, oltre poi alla sporcizia permanente che c'è. Chima Ambiente Amio evidentemente va quando gli gira in testa, come si suol dire a Taranto. Ma al di là di questo, la pericolosità dei marciapiedi è un fatto grave, perché ci sono tante mamme, papà, anziani, nonni che accompagnano i bambini, oltre al fatto che gli stessi bambini possono cadere. E mi fa specie che proprio il dirigente scolastico della Martellotta è il professor Giovanni Tartaglia. Candidato alle ultime comunali con il Partito Democratico a sostegno di Melucci, un grande amico di Melucci. Preside, mi piace chiamare presidi i dirigenti scolastici. Non dice nulla ora? Alzi la voce con il suo caro amico Melucci. Avete fatto una campagna elettorale, lei preside ha fatto una campagna elettorale magnificando i progetti dell'amministrazione Melucci e ora si ritrova ad essere il preside di una scuola che insiste su un marciapiede che sembra essere stato colpito dai bombardamenti, pericolosissimo. Preside Tartaglia, aspetto ora un suo intervento e magari proprio per il bene della scuola e per il bene degli alunni, tiri molto fortemente le orecchie al suo amico Melucci fino a staccagliele, ovviamente lo dico in senso metaforico. Preside Tartaglia, gli studenti, i familiari degli studenti che li accompagnano a scuola, ma anche i docenti stessi e qualunque altro cittadino che passa lì davanti non merita di cadere. È giusto o no, preside? Grazie.